Viaggiavano per le vie della città a bordo di un'auto rubata quando, giunti in piazza Turiferro nel quartiere San Berillo di Catania, hanno visto in lontananza un posto di blocco dei carabinieri del nucleo radiomobile Etneo e nel tentativo di evitare un probabile controllo hanno accelerato la marcia. Il comportamento del conducente non è sfuggito ai militari che si sono immediatamente dati all'inseguimento dell'utilitaria, una Renault Twingo, con all'interno due uomini, un 42enne e un 30enne. Il più giovane, che era alla guida del veicolo, vistosi braccato, ha immediatamente arrestato la corsa dell'auto per darsi alla fuga a piedi. Il passeggero 42enne, pur avendo tentato anche lui la fuga, è stato invece prontamente fermato dai carabinieri. La pattuglia ha quindi divulgato via radio un identikit del fuggitivo alla centrale operativa di Catania, che ha subito diramato le ricerche. Il trentenne è stato così riconosciuto, fermato e perquisito da un'altra pattuglia dei carabinieri, pochi minuti più tardi, in via di San Giuliano. Nella tasca del giubbotto, l'uomo conservava ancora la chiave della Twingo. Degli accertamenti, l'auto è risultata essere stata rubata qualche giorno prima a un trentottenne di Catania che aveva asporto regolare denuncia di furto. I due uomini sono invece stati denunciati dai militari per ricettazione.